Grazie a tutti. Grandi donne dell'opera ma grandi donne all'opera. Come diceva lei l'anno scorso Tosca Norma e Violetta, quest'anno Carmen Gioconde Turandot, mirabilmente descritte dal collega amico e anche stratega del Centro Studi Grande Milano Davide Steccanella, ma soprattutto il premio del Centro Studi Grande Milano alle grandi donne all'opera del tempo moderno e quale più alta donna del tempo moderno di Livia Pomodoro, presidente del Tribunale di Milano. Un orgoglio non solo per Milano ma per l'Italia intera, proprio per la sua appassionato impegno nella cultura della legalità e del diritto. Se l'anno scorso Tosca Norma e Violetta erano le tre grandi donne all'opera, quest'anno Carmen Gioconde Turandot saranno le grandi donne all'opera a colloquio con Davide Steccanella. Ecco perché la scelta è caduta su queste tre, quest'anno. Perché volevo fare tre donne un po' diverse da quelle dell'anno scorso e a loro volta, secondo me, come quelle dell'anno scorso, abbastanza significative nel denileare un aspetto particolare femminile. E anche in questo caso sono tre donne un po' più avanti nella costruzione dell'opera rispetto a quelle dell'anno scorso, però anche loro riservano degli aspetti abbastanza interessanti. Vogliamo fornire tre brevi schede biografico su un altro caratteriale di queste tre donne? Sì, è bello proprio perché Carmen in un certo senso è la donna che ama la libertà. Erroneamente le si attribuisce, come dire, un'attività di carattere sessuale un po' veloce, ma non è vero. In realtà Carmen è una donna che ama soprattutto la libertà, per quello scatta il problema con Don José che questo non lo capisce. Gioconda invece è una donna che in qualche modo è frustrata nel suo amore, perché il suo amore non è corrisposto e sceglie di fare un sacrificio in un certo senso per un sentimento materno. Quindi è una donna che sostituisce l'amore negato dell'uomo con un'affezione particolare alla propria madre, quindi è anche un altro aspetto che possiamo conoscere. Infine Turandotte è il personaggio per certi aspetti più bello perché è il personaggio della donna diffidente. Cioè Turandotte è una donna diffidente nei confronti degli uomini perché pensa che siano tutti in qualche modo non meritevoli della sua attenzione. Quindi abbiamo tre figure, come dire, molto diverse. La donna libera, la donna insoddisfatta da un punto di vista sentimentale e la donna fredda perché diffidente nei confronti del maschio. Quindi mi sembrano tre figure interessanti. Così come è stato per l'anno scorso, anche per quest'anno si possono desumere e assorbire determinati concetti, caratteri, note, per portarle anche nei tempi nostri, in questi tempi che stiamo vivendo o no? Sì, io credo di sì. Anche quest'anno sono tre donne superiori ai rispettivi maschietti, come l'anno scorso. Cioè sono molto meglio loro degli uomini con cui si trovano a relazionarsi. Sono tre donne molto vere, tre donne che in qualche modo seguono anche il loro istinto e tre donne comunque molto caratterizzate da una personalità parecchio forte. Cioè nel senso che non sono tre donnette, anzi sono tre personaggi di grandissimo rilievo. Ripeto, superiori agli uomini e superiori anche alle rivali femminili che si trovano a dover affrontare in tutti i tre casi. Quindi sono ancora una volta tre grandi donne, tre grandi donne ancora una volta con un grosso cuore e con una grande personalità e quindi anche delle grandi donne, oggi potremmo dire, lavoratrici. Infine per Davide Stricanella una passione che non termina questo, direi, no? No, assolutamente. A me l'opera piace sempre tantissimo e mi piace parlare delle donne all'opera perché secondo me l'opera è uno degli spazi dove la donna ha avuto per tutta una serie di considerazioni un'importanza sicuramente maggiore che rispetto ad altri campi artistici. Cioè nell'opera le donne sono molto importanti e mi piace quindi parlare di donne all'opera il giorno che in qualche modo si festeggiano tutte le donne. Il tradizionale evento del Centro Studi Grande Milano è stato però anche l'occasione per consegnare l'ambito premio Le Nuove Guglie della Grande Milano a Livia Pomodoro, presidente del Tribunale di Milano, in qualità di grande donna all'opera nel tempo moderno esempio di equilibrio ed impegno appassionato a sostegno della cultura della legalità e dello sviluppo della civiltà del diritto. Non si può abbassare la guardia, bisogna essere sempre vigili e soprattutto bisogna pensare che educare la legalità serve per le future generazioni in cui dobbiamo consegnare un mondo migliore di quello attuale. Un'ultima domanda, guardando nel futuro, con sano realismo lei o con ottimismo addirittura? Io sono un'ottimista di natura però sono anche una persona estremamente realista e ad ogni modo il mio modo di pensare è che per ogni giorno c'è la sua pena e per ogni giorno ci deve essere il nostro impegno.